Verrà portato avanti un intervento che, parlando con i cittadini di Tortaia, era 30 anni che era richiesto, un intervento che comunque ha una necessità, perché comunque ci sono delle esigenze, parlando anche con l'ufficio scuola e anche con i dirigenti scolastici, che effettivamente c'è la necessità di portare avanti un nuovo asilo all'interno del quartiere Tortaia. Il nuovo asilo in zona Tortaia ad Arezzo si farà, e si farà esattamente nel luogo prescelto, cioè una porzione del parco pubblico che si trova tra via Ungaretti e via Quasimodo. Risponde così l'amministrazione comunale al comitato di cittadini della zona, che non contesta la costruzione di una nuova scuola, ma la sua ubicazione. Questa zona, secondo quanto sostenuto dall'amministrazione comunale, è l'unica che risponde ai criteri per avere accesso ai fondi del PNRR. Il bando, che tra l'altro è chiuso, prevedeva che le aree in cui oggetto di intervento dovevano essere già a disposizione dell'amministrazione e dovevano rispettare quelli che sono gli strumenti urbanistici. Questo è un fatto imprescindibile, in cui, specialmente quando si parla di finanziamenti legati al PNRR, e quindi all'Europa non possiamo andare a eliminare per qualsiasi volontà questi punti fermi. E quindi abbiamo deciso proprio di inserire all'interno di questi bandi l'asilo di Tortaia e quindi dare una risposta definitiva a un progetto che oramai da anni e da più la sua amministrazione era stato deciso di portare avanti, ricordiamoci che non è un intervento che comunque è passato solo dall'amministrazione Ghinelli, ma che arriva da molto lontano. Guardando solo quello che è il piano delle opere, io sono potuto arrivare al 2007 e già in quell'annualità lì era presente all'interno del piano delle opere pubbliche, quindi sono 15 anni che questo asilo doveva essere fatto. Io ho avuto modo anche di avere vari contatti per ora con mail, con il comitato che all'inizio volevano venire da me in ufficio, poi dopo mi hanno cancellato l'appuntamento, mi hanno rinvitato per un appuntamento direttamente a Tortaia che non potevo andare avendo poco preavviso, chiaramente gli impegni sono molteplici. E comunque ora abbiamo ricontattato il comitato e abbiamo deciso assolutamente di incontrarli per spiegare quelle che sono chiaramente le motivazioni e quello che è il progetto reale perché spesso magari i cittadini non hanno anche coscienza giustamente perché magari non tutti siamo dei tecnici e non tutti sanno come guardare anche le pratiche all'interno delle delibere approvate nelle varie giunte comunali e quindi illustrare innanzitutto quello che è il progetto, far capire che in quell'area lì rimarrà comunque una parte di verde, non solo quella destinata all'asilo ma anche aperta a tutti che comunque siamo inseriti in un contesto ampio in cui il verde assolutamente non manca, quello che manca è un asilo. Le aree che ci hanno proposto non sono pubbliche, quindi non sono a disposizione dell'amministrazione. Possiamo anche dire no, non vogliamo usare i fondi PNRR e fare l'asilo con fondi comunali. Io credo che questa sia una scelta che non è degna di un'amministrazione che vuole bene ai propri concittadini perché comunque non usa uno strumento, una possibilità che sarebbe veramente irrazionale non utilizzarla.